Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi Ed eccoci, riprendiamo oggi il filo conduttore del racconto delle due star di cui ci siamo occupati anche ieri e dopo Rihanna oggi è la volta proprio di Lady Gaga L'infanzia borghese nell'upper west side di New York gli studi presso scuole cattoliche ed esclusivamente femminili, le lezioni di pianoforte certamente è un contesto che farebbe pensare a tutto tranne che alla formazione di una delle più importanti, stravaganti soprattutto trasgressive pop star del ventunesimo secolo capace di dare un inaspettato scossone alla scena pop come forse non accadeva dagli anni 80 l'italo-americana Stephanie Joan Angelina Germanotte è cresciuta infatti in una casa dove la musica e l'arte si respiravano costantemente per lei è stato naturale iscriversi a una prestigiosa scuola d'arte dopo liceo Saranno poi un paio di EP registrati con la sua band e a tiratura limitatissima a incuriosire il famoso produttore talent scout Rob Fusari lo stesso delle Destiny's Child di Will Smith e Whitney Houston che appunto sono stati tra i suoi clienti il manager ha intuito immediatamente le potenzialità di Lady Germanotta eppur non potendo far leva su quella avvenenza fisica che ormai sembrava diventata un requisito necessario anche nel mondo della musica per poter sfondare era convinto che i tempi fossero finalmente maturi per spingere sul mercato una pop star contemporaneamente talentuosa dotata di una grande voce capace di suonare e fare spettacolo come poche altre e con una cultura musicale superiore a quella delle coetanee colleghe dopo averla ribattezzata Lady Gaga in onore di Radio Gaga dei Queen è iniziata così una difficoltosa trattativa per riuscire a mettere sotto contratto la Germanotta lei nel frattempo si era dedicata alla scrittura di canzoni per altri colleghi e tra questi citiamo per esempio Britney Spears e Michael Bolton e a prendere parte a diversi festival insieme alla performance artist Lady Stardust e a farsi quindi le ossa per così dire in contesti anche ben più ampi una volta firmato l'agoniato contratto con la Interscope anche per intercessione del rapper nonché amico Ekon è giunta al momento di fare il grande salto le sarà presentato il giovane produttore svedese Redwan le cui intuizioni sonore sono diventate fondamentali per poter realizzare il primo album, quello di debutto siamo all'aprile del 2008 poi quando il primo singolo Just Dance farà la sua timida comparsa il pezzo è molto diverso quanto di più diverso si possa ascoltare da ciò che in quel momento andava per la maggiore soprattutto nelle radio statunitensi che erano ormai sature di pop music sempre più contaminata dall'hip hop si tratta infatti di un brano sfacciatamente Eurodance costruito su synth, grassi, altisonanti combattiti decisamente più martellanti rispetto a quelli dell'R&B questo singolo andò molto bene negli Stati Uniti un po' meno in Europa forse proprio perché quel genere era un po' più conosciuto beh questa è anche la canzone con la quale oggi chiudiamo questo spazio augurandovi naturalmente buon ascolto con Just Dance